Partiamo subito dal celebrare il primato giallorosso che giunge, Marco, grazie alla vittoria ottenuta in casa contro Orzinuovi, alle contemporanee sconfitte, soprattutto in questo caso di Verona e di Mantua. Insomma, che effetto fa? Sicuramente siamo molto contenti del risultato, però sappiamo benissimo che dobbiamo migliorare in tantissime cose, quindi dobbiamo partire da quello, ci godiamo con tranquillità questi risultati e stiamo vedendo un campionato stranissimo, quindi non ci dobbiamo adagiare su un risultato positivo e continuare a cercare di migliorare per cercare di fare dei step sempre di più maggiori. Detto questo, partita importantissima con la I maiuscola per i giallorossi, Marco, perché si va a Mantua? Sì, sappiamo che dobbiamo fare ogni partita uno step in più e essere prima in classifica, tutte le squadre hanno ancora più fame di batterci e Mantua è una squadra espertissima, due super americane di categoria anche superiore e un quintetto molto esperto, dove sono secondi in classifica, però stanno facendo un super campionato, quindi una bellissima partita, arriveremo preparati e ce la giochiamo con il solito spirito che ci si tratta di String, gran difesa e gran voglia di vincere.